Io sono Alessandra Orazio, ho 39 anni, lavoro in Sogim da 10 anni e sono una recruiter. Sono Antonino Bentivegna, agente Sogim dal 2014. Sono Andrea Gandolfo, ho 32 anni, sono agente immobiliare per la Sogim. Per me lavorare in Sogim significa avere colleghi che ti sostengono, ma soprattutto un bellissimo gruppo di professionisti basato sulla fiducia reciproca. Significa far parte di un'azienda importante che pone i propri collaboratori al centro, li fa sentire parte di un progetto, esattamente come è successo a me. Un tuo successo non è solo tuo, ma è una vittoria per tutta l'azienda. Per me Sogim è la nuova visione del realistate italiano, perché grazie alla sua pluriennale esperienza riesce ad interpretare ed anticipare le nuove tendenze di mercato ed è sempre un passo avanti. Perché noi diamo la massima attenzione alle persone che lavorano con noi, le ascoltiamo e le aiutiamo a esprimere al meglio il loro potenziale. In Sogim vedo una grande opportunità di crescita, miglioramento continuo e trasformazione. Trasformazione proprio in un supereroe come Mr. Fantastic è quello che ho scelto. Un giovane forte e determinato. Ma io mi sento la cosa dei Fantastici Quattro, per i più l'uomo roccia. Il personaggio che più mi si addice è Elastic Girl, perché ha delle caratteristiche attinenti a molto il mio ruolo, l'elasticità, l'open minding fondamentali. Ti piace l'uomo roccia, vero? Cosa aspetti? Votami ora! Perché dovresti votarmi? Perché io sono Elastic Girl! Votami e ti farò scoprire i miei superpoteri! Votami! 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 V